in centro. Come l'ha trovata questa risposta di Roma? Una grande risposta, soprattutto una risposta direi decisa e chiara, perché oggi è il momento della chiarezza e non dell'ambiguità, perché o si sta con Israele o si sta contro Israele. Le mediazioni non ci sono. Con quello che abbiamo visto, con quello che ahimè è successo, non c'è possibilità di equidistanze come qualcuno ancora oggi tenta di voler far passare. La risposta che si aspetta da Israele dovrà essere proporzionata secondo le norme internazionali, del diritto internazionale. Questa è una conclusione che ha avuto anche l'incontro dei cinque presidenti ieri sera? Penso che il tema non sia solo quello. Oggi Israele ha bisogno di una solidarietà che non abbia dei però, perché Israele è stata aggredita e Israele ha il dovere di reagire.